È tutto nella norma, non c'è stato uno stallo, c'è stata la normale evoluzione democratica, ci sono quindi oggi dei passaggi importanti, ci stiamo avviando verso la conclusione in due giorni, va bene così. Lei ha detto che Salvini è un'ossessione per lei rispondendo da quel tweet. Io penso che Salvini si debba occupare di altro perché qui i giochi sono complicati, quindi non ha bisogno sempre di salutarmi, di mettermi in mezzo nelle sue attività, io non ne sento la mancanza.